Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti sul mio canale è da un po' di tempo che non mi metto realmente qui a fare un video ma sono molto felice che questo primo video di settembre sia un book haul faccio dei video un pochino più frivoli diciamo non solamente per distaccarmi un pochino dal mese di vlog sulla booktube, a ton che penso abbiano rotto le scatole a tutti per me sembra un secolo fa ma durante il mese di agosto non ho fatto solamente questo ma ho comprato anche dei libri e anche delle altre cose due in realtà che vi mostrerò per prime che sono un fungo e un'altra cosa che indosso in questo momento il mio primo acquisto che è molto molto trash è questa collana qui che non toglierò perché è difficile da mettere però c'è un Harry Potter molto carino, semi chibi ho anche una maglietta identica a questa collana quindi più trash di così, no l'altra cosa che non è un libro che ho comprato che è sempre a tema Harry Potter è stato un Funko Pop infatti ormai mi mancano pochissimi Funko Pop di Harry Potter per quanto riguarda i personaggi in generale perché infatti il mio goal è quello di avere almeno un Funko Pop di ogni personaggio quindi uno di Harry, uno di Hermione, uno di Ron, uno di Hagrid, bla 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 uno di quelli che mi mancava era Minerva McGonagall non so perché ci ho messo tanto a comprare lei perché è uno dei miei personaggi preferiti della serie però finalmente ho anche lei me ne mancano davvero pochissimi da comprare il punto è che ogni volta che mi avvicino alla meta quindi ad averne meno di 5 da comprare esce una nuova onda e quindi io sono tipo che vita di cacca intanto la lascio lì e passiamo ai libri io da Mondadori ho una tessera di Mondolibri Mondolibri è praticamente un abbonamento non so nemmeno come chiamarlo in cui ti danno dei libri un pochino sperduti cioè alcuni sono libri che ho visto che non pubblicano più che sono magari di edizioni speciali che case editrici non vogliono più pubblicare o che sono andati fuori vendita o fuori produzione altri sono anche libri famosi che loro comunque li vendono a un prezzo un pochino diverso, scontato lì ho comprato uno dei libri che ho letto per la Booktubaton che è La Signora dello Zoo di Varsavia e sempre su quel filone ho deciso di comprare questo libro che è Se questa è una donna di Monica G. Alvarez questo libro principalmente parla delle donne durante la seconda guerra mondiale ma parla soprattutto delle carceriere della seconda guerra mondiale dei vari campi di concentramento o di lavoro che c'erano sparsi per il mondo non credo sia solo ad Auschwitz però non ne sono sicura perché ancora non l'ho letto la cosa che mi ha più colpito di questo libro appena l'ho aperto è stato il fatto che ogni carceriera venga inizialmente descritta attraverso un identikit qui non abbiamo un romanzo questo qua è decisamente un non fiction dove appunto c'è una specie di identikit iniziale e poi viene un pochino raccontata la loro storia anche personale suppongo così come anche comunque le testimonianze quello che poi ne è stato di queste persone e della fine insomma che hanno fatto penso che sia molto interessante vedere sempre un punto di vista differente della guerra o comunque delle persone che erano coinvolte nella guerra e non sempre il solito so che comunque il solito è da dire è da il solito il solito diciamo è comunque importante non sto dicendo assolutamente che non lo sia però credo che in questi anni soprattutto attraverso la scuola abbiamo avuto un sacco di questo è quello che è successo queste tot persone sono morte queste sono le persone cattive e vediamo solamente un certo punto di vista vediamo sempre almeno io mi ricordo che in moltissimi film che ho visto o libri che ho letto documentari che ho visto sulla seconda guerra mondiale i carcerieri per esempio erano sempre uomini non abbiamo mai avuto questa visione un pochino femminile e è comunque da prendere in considerazione perché a volte si pensa che è solo l'uomo maschio che fa delle cattiverie è solo l'uomo maschio quello cattivo e invece no perché perché siamo uguali da un certo punto di vista sia donne che uomini sono stati i carnefici della seconda guerra mondiale quindi sono molto curiosa di leggere questo libro quando sono andata a prendere quel libro da mondo libri mi hanno detto che in realtà non potevo prenderlo cioè non mi valeva come l'acquisto perché era tipo scontato quindi ho dovuto prendere un altro libro e questo libro è in realtà un libro super mega famoso e me ne rendo conto che però io non avevo ancora letto che è La ragazza del treno di Paula Hawkins di questo libro ne parlavano tutti un paio di anni fa c'erano alcune persone che dicevano che era il libro più bello del mondo alcuni più banali del mondo però io non so niente di questo libro niente l'ho preso per l'hype e qui lo dico e qui lo ammetto per l'hype è un thriller quindi sicuramente mi terrà attaccata e vorrei portarmelo da leggere durante le vacanze chi lo sa poi più o meno a metà del mese sono andata in montagna e lì tra negozi delusato e bancarelle ho preso un po' di libri la maggior parte a niente cioè ha pochissimi soldi ho preso solamente un libro da giunti perché lì in montagna c'è solo giunti che devo dire che non è tra le mie librerie preferite però c'è solo quella e ho preso un libro un pochino collegato a quello delle carceriere perché è un pochino lo stesso modus operandi di libro ed è questo qui le regine le principesse più malvagie della storia di Marina Minelli io sono sempre stata molto innamorata della storia la mia materia preferita a scuola erano inglese storia e ho sempre avuto una passione per il royal adoro re principesse tutti questi alberi genealogici immensi e quando ho visto questo cioè royal e persone cattive ho sentito che qualcosa dentro di me diceva Sara compralo anche questo appunto come quello delle carceriere è fatto a personaggi diciamo quindi questo ha per esempio l'arrogante regina d'alcova non lo leggerò mai giusto françois atene de moma marchessa di monspan e poi appunto racconta la storia di questa principessa o regina e la trovo lo trovo un concetto molto interessante di non prendere appunto solamente le persone buone ma anche quelle un pochino più cattive quindi sia questo che quello delle carceriere sarà probabilmente un libro che leggerò magari una storia o un personaggio comunque alla volta perché trovo che sia un anche questo un argomento decisamente interessante il resto dei libri li ho pagati più o meno a metà prezzo tranne questo qui che l'ho pagato solamente qualche euro in meno ma perché è praticamente nuovo ed è l'amore ai tempi del colera di gabrielle garcia marquez o marquez marquez questo libro ha una piccola storia dietro come tanti altri libri di quelli che ho qui perché perché questo libro l'aveva letto una mia compagna del liceo quando eravamo in seconda o terza superiore e le era piaciuto un sacco mi diceva che l'inizio era un pochino lento però poi si riprendeva un sacco e le era piaciuto davvero tantissimo da quel momento questo libro è rimasto nella mia tbr e ora finalmente è nelle mie mani ho sempre paura a comprare libri che gli altri mi consigliano se so che i loro gusti sono molto diversi dai miei però appena l'ho visto ho detto no basta toglielo dalla tbr e compralo ho preso poi tre libri della stessa edizione che è un'edizione che non avevo mai visto che però mi sono costate 4 euro l'uno quindi praticamente niente e il primo che vi mostro è antologia di spon river di edgarley masters che ho già iniziato questo libro mi è stato consigliato dal mio professore di storia e filosofia quando ero in seconda o in terza superiore sempre a quel periodo lì io mi ricordo esattamente di aver scritto sul mio quaderno di comprare questo libro perché lui lo consigliava tantissimo e quando l'ho visto ho detto no è destino e ti prendo questo libro parla di una serie di epitaffi che l'autore si immagina essere sulle tombe del cimitero vicino allo spoon river che sarebbe appunto il fiume spoon vicino a una città chiamata levistown sempre di questa edizione ho preso la metamorfosi e altri racconti di kafka io ho già letto la metamorfosi all'inizio di quest'anno e mi era piaciuto tantissimo infatti era iniziata la mia ossessione per kafka perché avevo letto anche lettera al padre e il processo processo che non ho mai finito di leggere la cosa che però mi ha spinto a comprare questo libro era altri racconti perché infatti secondo me kafka è molto bravo a fare brevi racconti come la metamorfosi più che lunghi costruiti come il processo che non sembrava finire mai quindi ho deciso di prendere questo libro non solo perché volevo avere una copia anche cartacea delle metamorfosi ma anche per leggere altri piccoli racconti appunto di questo autore che secondo me è geniale e ultimo libro che ho preso in questa edizione perché tutti quelli che fanno francese mi dicono che fa cagare questo libro non so perché è I fiori del male di Baudelaire io non so se è perché la gente deve leggere il libro e studiarlo che fa cagare però ho deciso di prendere questo libro e che io credevo fino al minuto prima di comprarlo che fosse un romanzo invece non è un romanzo sono poesie non ho idea cioè sono ignorante ok sono ignorante ma la cosa che mi ha ancora di più ispirato a prendere questo libro è stato quello che ho letto dietro ossia che già dieci giorni dopo la pubblicazione di questo libro la sicurezza pubblica denunciò l'opera per oltraggio alla morale pubblica e offesa alla morale religiosa ho detto no vabbè ti compro e ultimo ma non meno importante ho preso un libro super mega classico cioè questi qua io comunque li considero classici diciamo ma questo è proprio classicone assurdo qua passiamo alla Russia piccola backstory il mio musical preferito è tratto da credo un tomo di questo libro il musical si chiama Natasha and the great comet of 1812 è bellissimo ascoltatelo e venite a sclerare con me a parte questo disagio ho sempre voluto leggere questo libro da cui è tratto perché insomma è il mio musical preferito e c'è un libro quindi devo leggerlo e ovviamente il libro è guerra e pace di Tolstoi che ho sicuramente detto male tutti quelli che studiano il russo vi prego non mi uccidete lo volevo in questa edizione perché io ho queste edizioni quasi tutti i classici c'erano dei miserabili di Frankenstein di dottor jackie le misteri perché costano niente se andate da lì braccio sicuramente li trovate sono fatti un po' di merda però vabbè tipo che marius nei miserabili è diventato mario e ponina però per il resto sono buoni e niente d'ora in poi potrò anch'io leggere guerra e pace e morire perché lo finirò in otto mesi come i miserabili però lo amerò e ora potrò finalmente capire tutta la storia che tra l'altro mi sono già spoilerata rileggendo un altro libro perché la vita è bellissima questo è stato il mio piccolo spero haul perché in realtà ho registrato un sacco però spero sia corto fatemi sapere quali libri avete letto cosa avete comprato voi nel mese di agosto e quali libri tra questi volete che io legga prima non lo so noi ci vediamo al prossimo video e bye ciao